Daniele Lupo, Paolo Nicolai, vi è capitato probabilmente l'abbinamento più difficile qui in Austria? Uscite contro Dopplerost e contro 8000 persone che hanno fatto Baldoria. No, non era il più difficile, c'erano molte squadre. Abbiamo giocato bene, credo in frase break abbiamo fatto meno, loro sono stati bravi comunque a fare bene il cambio palla. Sono un'ottima squadra e comunque sono stati bravi. Cosa non ha funzionato oggi Paolo? Sicuramente la mia battuta non ha funzionato molto. Era una delle chiavi probabilmente per cercare di metterli un po' più in difficoltà in cambio palla perché sappiamo che probabilmente il cambio palla e la battuta sono i loro punti forti. Loro l'hanno sfruttato al meglio, noi abbiamo fatto comunque una buona partita, non possiamo dire di aver giocato male, però per vincere questo tipo di partite ci voleva qualcosa in più e purtroppo non è arrivato, vabbè, alla prossima. Qual è comunque il bilancio di questo Major di Vienna? Ogni partita come abbiamo visto dalla prima all'ultima è super combattuta, quindi cercheremo di crescere. Adesso si va in Russia? Adesso si va in Russia e appunto sapendo sia che possiamo, conoscendo quelli che sono i nostri punti di forza e ci dispiace, ci dispiace essere fuori da questo torneo perché i Major sono veramente belli da giocare. Negli altri eravamo arrivati sempre in fondo, qui purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Rammarico c'è, però si pensa avanti.